In un laboratorio segreto, da qualche parte nell'emisfero occidentale, era venuto alla luce l'essere umano perfetto. Aveva la forza di dieci uomini e l'intelligenza di venti. Quell'uomo aveva un gemello. O un fratello. Salve! Oh, mamma mia! Arnold Schwarzenegger. Nati per essere canti. E Danny DeVito. Ottimo lavoro, ma... Sono i gemelli. Il mio nome è Julius e sono il tuo fratello gemelli. Oh, ma certo! Dal momento in cui mi sono seduto ho pensato di guardare in uno specchio. Solo la madre avrebbe potuto distinguerli. I gemelli, la nuova commedia di Ivan Reitman. Julius, ma che sei allergico a qualcosa? Guarda lì, sei tutto goncio, sembra quasi che stia per esplodere. Mi piace come colpisci. Tu chi sei? Sono il fratello di Vincent. Gemelli. Proprio così. I gemelli.